Ciao a tutti, in questo video voglio parlare della comunicazione ipnotica, che cos'è la comunicazione ipnotica e come si può utilizzare la comunicazione ipnotica nella vita quotidiana per amare se stessi e farsi amare dagli altri. Perché la comunicazione ipnotica è la via d'accesso, la via regia alla nostra parte emotiva, quella che potremmo definire inconscio o parte emotiva. Noi attraverso la comunicazione ipnotica, che significa comunicare con le emozioni, comunicare con la nostra parte emotiva, possiamo ristrutturare quelli che sono i nostri limiti, ristrutturare quelle che sono le nostre paure e acquisire stima in noi stessi, amore per noi stessi. Questa è la cosa fondamentale se vogliamo essere felici, perché per essere felici, per poter conquistare gli altri, dobbiamo in primis imparare ad amare noi stessi. Inoltre la comunicazione ipnotica o comunicazione emotiva può essere usata verso gli altri, cioè in modo da interagire direttamente con quella sfera, la sfera emotiva che è la sfera che governa i comportamenti delle altre persone. E possiamo farlo andando a generare delle tensioni, cioè andare a tendere l'elastico delle emozioni, le emozioni compresse. Noi possiamo cogliere attraverso particolari segnali simbolici quali sono le emozioni compresse nelle altre persone e sollecitarle, stimolarle, rigenerarle, amplificarle attraverso il nostro comportamento. Tutto questo lo imparerai, se sei interessato, venerdì 12 gennaio alle 20.45 a Torino, perché farò un seminario sulla comunicazione ipnotica per amarti e farti amare. La sede dell'Educatorio della Providenza è in corso 3013 e il riferimento è 333 15 11 703. Ciao a tutti.